Pochi controlli anti-Covid, mentre i sindacati lamentano di non essere considerati da Tua e Regione Abruzzo. Il trasporto pubblico del Terramano ha delle criticità, secondo il consigliere del Partito Democratico Dino Pepe, il quale ha presentato un'interpellanza al Consiglio regionale. I lavoratori, ma soprattutto gli utenti, sono molto delusi dalla gestione del trasporto pubblico locale, in maniera particolare in provincia di Teramo. I sindacati hanno lamentato la mancanza soprattutto di dialogo con Tua e soprattutto con la Giunta regionale. A questo proposito ho presentato un'interpellanza che mi auguro sarà discussa al prossimo Consiglio regionale, dove possiamo fare insieme una riflessione sulle criticità del trasporto pubblico locale, a cominciare dalla situazione difficile sindacale con i lavoratori, alla alta evasione tariffaria, alla mancanza di controlli. Siamo in piena pandemia, tanti lamentano sia le sanificazioni sia i controlli per quanto riguarda i Green Pass. Una situazione da affrontare con urgenza e ci auguriamo che al prossimo Consiglio regionale ci sia questa discussione puntuale, con risposte puntuali da parte della Giunta regionale.